Aspettate, devo svuotare il sacchetto a raccoglierba! I satanassi infernali, eh? Vi tengo d'occhio, teppistelli! Non puoi farci niente, porcellone! E poi non abbiamo superato il limite! Sì! Coink, coink, coink! E mo' poi commetterete qualche errore e finirete dritti al riformatorio! Non puoi metterci dentro, ma non potrai mai sconfiggere i cobra, giovanotto! I cobra? Ma non siete i satanassi infernali? Oh, oh, ma di soffurato!